Onorevole Tommaso Amabile, neoconsigliere regionale del PD, finalmente il Consiglio regionale si è insediato giovedì scorso dopo innumerevoli vicissitudini. Per la verità è stata abbastanza lineare sia la convocazione sia l'insediamento, è stato fatto anche in tempi abbastanza brevi rispetto al passato, c'è stato soltanto un rinvio perché arriva improvvisamente questa decisione del Presidente del Consiglio di sospensione temporanea del Governatore De Luca. Si è proceduto speritamente, è stato un Consiglio improntato a una visione dell'impegno politico istituzionale, è mirato a creare le soluzioni per i tanti problemi che attanagliano la regione Campania. Sicuramente è molto positivo e un discorso costruttivo è stato fatto anche dai gruppi di opposizione, al di là delle differenziazioni che pure sono emerse. Credo che adesso incomincia l'impegno vero della regione Campania. Ecco, onorevole, lei è il primo rappresentante della Valle dell'Irno, quindi questo territorio presumibilmente si attende, diciamo, delle risposte importanti che lei sicuramente sarà pronto a dare. Per il passato c'è stata qualche altra espressione, pare quando fu costituito la regione per la prima volta fu eletto il consigliere Filippo Petti a Mercato Don Severino. Da allora alla Valle dell'Irno non aveva espresso un proprio rappresentante, non era riuscito ad esprimere, era un proprio rappresentante in seno al Consiglio regionale, questa volta invece ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta non tanto perché è stato un voto convinto forte da parte di questo comprensorio, ma perché la mia candidatura è riuscita ad intercettare consensi al di fuori dell'ambito strettamente comprensoriale, per cui in tutta la provincia si è creata una condivisione ed una rete di amicizie che hanno consentito al candidato di Fisciano di poter tagliare il traguardo ed essere eletto in Consiglio regionale. Questo carica di maggior responsabilità ovviamente l'impegno istituzionale che è già incominciato, perché le risposte devono essere plurime e devono guardare alla Regione Campania e più in generale, ma in particolare all'intera provincia di Salerno che ha consentito anche il raggiungimento di questo traguardo e di questo obiettivo. Ecco, onorevole, in ordine poi lei risponderà una per volta. Le problematiche principali, i forestali, poi c'è la Quiete, il Cedisa e un po' anche per quanto riguarda la sua cittadina Fisciano dal punto di vista anche del commercio si attende delle risposte e magari lei può aiutarli diciamo in tal senso. Ma secondo me le risposte che la Regione Campania deve mettere in campo riguardano tutti i settori della vita pubblica. Noi siamo stati spietati nell'analisi della gestione Caldoro che è stata negativa sotto tutti gli aspetti e sotto tutti i profili che riguardano pubblica amministrazione dall'utilizzo dei fondi europei, dei fondi straordinari che non sono stati spesi ed impegnati per tempo ma soprattutto non sono stati impegnati e spesi per bene. È stata una pioggia così anche a macchia di leopardo all'interno dei territori con l'invenzione della cosiddetta accelerazione della spesa dopo quattro anni e mezzo di latitanza della giunta Caldoro sul problema finanziando progetti che già dal 2009 giacevano approvati al parco progetti costituiti allora dal governatore Bassolino. Quindi sull'utilizzo dei fondi europei è una bocciatura secca e senza appello. Va ovviamente ancora oggi, non sono pronti i bandi per assegnare i fondi della programmazione 2014 2020. I bandi non sono pronti e dovevano essere già impegnate delle somme già dall'anno scorso al 2014. Quindi già un anno è stato perso, perderemo quasi sicuramente anche il secondo anno, il 2015 per cui anche adesso partiremo per tempo. Siamo consapevoli di questa difficoltà ma siamo anche comiti che noi invece riusciremo a spendere l'intera somma che Bruxelles ha trasmesso. ai territori del mezzogiorno della nostra campagna attraverso l'ente regione. Per quanto riguarda poi i fondi ordinari, vi è per quanto concerne gli idrarico forestali nella voce del bilancio ordinario 0 euro. Questo è il livello di attenzione dell'amministrazione di centrodestra avuto verso questa categoria di persone. Parliamo di 4.000 famiglie in provincia di Salerno. Qualche risposta sporadica è stata data impropriamente utilizzando sempre i fondi europei che devono essere risorse aggiuntive rispetto ai fondi europei. Quindi bisogna anche qui invertire la rotta e cambiare completamente pagina. Su questo siamo impegnati già da lunedì in mattina, sapendo che non sarà una cosa semplice né facile, ma sono convinto che ci riusciremo anche su questo. Abbiamo ereditato un bilancio regionale, al di là delle declamazioni che ci erano state dette e rappresentate, che ad oggi sembra avere un deficit di 1 miliardo e 400 milioni di euro. altro che risanamento operato dal governo di centrodestra. Però una cosa ha rimarcato a chiare lettere Vincenzo De Luca, ha detto io non polemizzerò come ha fatto Caldoro per cinque anni per giustificare la propria inefficienza richiamando le colpe di chi aveva amministrato prima di lui. Noi abbiamo accettato la sfida, conoscevamo e conosciamo le difficoltà che c'erano e che ci sono, ma nonostante tutto siamo convinti di poter raccogliere questa scommessa, raccogliere questa sfida e di riuscire a dare le risposte al territorio che la gente e le comunità si aspettano. Quindi non torneremo né polemizzeremo mai sui guasti di prodotti da chi ha gestito ed amministrato prima di noi, ma cercheremo soltanto di rappresentare le cose che metteremo in campo e che riusciremo a fare per le nostre comunità e per la nostra gente. Ecco, onorevole, un'ultima domanda. Lei ha detto precedentemente che bisogna, ed è giusto, rappresentare l'intera provincia di Salerno, perché lei rappresenta in primis la provincia di Salerno, però il territorio della Valle dell'Irno. Ecco, per la sua Fisciano, che lei è stato sindaco. Cosa può fare per la sua Fisciano che lei è stato sindaco? Il impegno speso, diciamo, da oggi in avanti per i prossimi cinque anni in Regione Campania? È chiaro che non si può dimenticare non tanto l'appartenenza ad un territorio, ma il fatto che io sono stato sindaco di questa comunità per circa dieci anni nell'ultimo periodo e per tre anni negli anni 90. Ovviamente resto profondamente legato a questo contesto territoriale e tutte le occasioni che pure sono state sollecitate, non sono state raccolte finora dalla Regione Campania. Cercheremo di metterle a regime e di determinare anche all'interno di questo territorio una serie di ricadute positive. Basta soltanto ricordare come ad oggi il Comune di Fisciano vanta circa 3 milioni di Euro dalla Regione Campania per decreti di concessione di somme per opere realizzate, rendicontate e non ancora saldate da parte di questo ente inadempiente, almeno fino a ieri. E noi ci batteremo perché non sia più una Regione che si comporti in questo modo, che guardi all'interesse dei territori in modo generale complessivo e che si impegni nel portare avanti le grandi sfide, le grandi realizzazioni che possono determinare anche ricadute positive in termini occupazionali all'interno dei nostri territori. Miglioramento delle infrastrutture, potenziamento della rete ferroviaria. Sicuramente portano avanti la battaglia che non ho mai abbandonata, che dal 2009 stiamo portando avanti, di realizzazione della strada ferrata all'interno del campus universitario di Fisciano. La sottoscrizione dell'APQ, dell'accordo quadri programma che Caldoro non ha firmato, con la complicità dell'assessore romano, sindaco di Mercato San Severino, con l'ANAS per avere anche la realizzazione della terza corsia nel tratto autostale fratte, barriere di Mercato San Severino. Questi impegni che sono di ampio e di grande respiro saranno al centro del mio impegno politico in regione Campania. Insieme a tutte le altre problematiche rispetto alle quali sarà sicuramente importante l'apporto e l'impegno di ognuno, a partire dai trasporti, dalla sanità, dalle politiche sociali, dal problema dei forestali, anche dal potenziamento del commercio. Perché mi è stata passata la domanda prima, a parte la specificità di una risposta che credo che poi può essere dubbio. Uno come maggior risposta ai cittadini e qui credo che gli uffici possono anche realizzare e portare a termine un'iter che abbiamo già completato con la passata amministrazione comunale, che è quella della realizzazione del mercatino orionale. Manca soltanto la gara per l'assegnazione dei posti, quindi l'ufficio può tranquillamente andare avanti e portarlo a compimento. Ma se si migliorano le infrastrutture aumentano anche le opportunità di lavoro per chi vuole investire in questa terra ed in questa area con una serie di benefici indotti che è molteplice, sia per gli operatori che verranno con maggiore determinazione all'interno della nostra comunità e sia per le opportunità di lavoro che si creeranno anche per tanti giovani che al momento sono letteralmente fuori e da ogni possibilità di occupazione immediata e futura.